In uso in questo stile di Krabby Krabon. Questa è la prima tecnica, la seconda. Sta anche dicendo i nomi delle varie sequenze di movimento. Questa è la prima tecnica, la seconda. La scala è la prima tecnica. Se non si non si non si andano mai. Si ha un'altra tecnica, le dimenti in questo modo. Il è un'altra tecnica che ha avuto dalla scala. Si progettino a capire. Dalla prima sequenza chiamata Malaila si può passare anche ad altre tecniche di movimento, come il maestro adesso sta illustrando. Sotto le gambe, sotto le gambe, intorno al collo. Su un unico dito, attorno al braccio, in aderenza. Il nome di questa tecnica è Samsau. Malaila. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.